Il Teatro Zelaio organizza la terza edizione di TAGS, teatro serale per giovani adulti, una delle poche iniziative in tutta Italia dedicata a questa fascia d'età. È Maria Arauzi, direttrice organizzativa del Teatro Zelaio, a spiegare le tematiche che saranno trattate nelle tre serate dedicata a TAGS e i dettagli dell'iniziativa. TAGS è una rassegna serale che noi dedichiamo agli adulti, noi ci occupiamo di solito di teatro ragazzi, ma in questo caso vogliamo rivolgerci anche agli adulti, ma con un punto di vista particolare. Vogliamo che siano spettacoli che possano essere fruiti anche da ragazzi, adolescenti, giovani, che quindi conservino quella freschezza e anche una durata abbastanza ridotta, soprattutto i spettacoli di un'ora, che faccia sì che anche chi il giorno dopo deve andare a lavorare o a scuola possa partecipare a questi spettacoli teatrali. La prima è nata partendo dalla considerazione che noi avevamo tirato su generazioni di bambini che poi arrivati a dieci anni non sapevano più dove andare a teatro e abbiamo voluto pensare a loro, quindi dare una programmazione adatta anche a ragazzi dai dieci anni in su. Questo è il terzo anno, abbiamo migliorato in corso d'opera, la programmazione di quest'anno è sempre di tre soli spettacoli, però secondo me molto molto interessanti, due legati a temi storici e un terzo invece più astratto legato alla scoperta di sé. Sì, diciamo che i primi due spettacoli sono, uno è legato al tema della memoria, lo faremo il 26 gennaio ed è tratto da una storia vera, successa durante la seconda guerra mondiale sul lago Trasimeno e anche il secondo spettacolo è di tipo storico perché lo faremo rezzato e parla di un episodio famosissimo che è quello della tregua di Natale del 1916 durante la prima guerra mondiale per l'appunto. Il terzo, come dicevo, che peraltro sarà inserito anche all'interno della Festival Corpus Ominis organizzato dalla Diocesi, è uno spettacolo di teatro di figura più astratto dove non ci sono parole e parla fondamentalmente dell'anima che sfugge dal corpo di questo personaggio che deve riuscire a recuperarla e quindi diventa un po' una riflessione su che cosa ci rende veramente quelli che siamo. Allora, potete trovarlo sul nostro sito teatrotelaio.it nella sezione rassegne oppure potete seguirci su Facebook dove comunque tutte le nostre attività sono costantemente aggiornate. Chiamateci allo 0346535, il biglietto è popolare, 8 euro per tutti. Per chi partecipa attraverso, con la formula dei gruppi o chi prende l'abbonamento a tutti e tre gli spettacoli, il prezzo cala a 5 euro.